Salve gente! Allora, questo video perché questa mattina intanto mi sono svegliato e aprendo Facebook mi arriva un ricordo dello scorso anno con il faccione di Mancini e la scritta Addio Mondiale quindi diciamo una coincidenza, una concomitanza particolare visto che ieri sera poi ha giocato l'Italia e ha riperso e poi perché comunque sempre questa mattina andando ad aprire anche Instagram ho visto che sono arrivati dei messaggi dove mi chiedevano se avevo visto la partita, cosa ne pensavo dell'Italia e quindi ci faccio un video a questo punto, ma non è un video solo sull'Italia ma in parallelo con l'Italia si parla di Lazio perché le due cose in un certo senso possono essere discusse insieme e adesso vi spiego perché, prima tu che stai vedendo questo video se ancora non l'hai fatto prova e iscriviti al canale, non costa nulla clicca sulla campanella per venire a giurare tutti i contenuti, potrai sempre disiscriverti quando vorrai, quindi scegli tu comunque, iscritto o non iscritto che tu sia, lascia un like, fallo subito o ricordatelo prima di abbandonare il video un like per il video, per tutti i video che andrai a vedere, nostra famo 76 invece per chiedere su Instagram se ti va di chiedermi qualcosa insomma io li rispondo a tutti allora, stavo dicendo, il video parte dall'Italia ma faccio un parallelo perché ci sono alcune cose da dire intanto, allora, chi segue il canale per quello ti dico iscriviti se non l'hai ancora fatto sa che quando ho parlato dell'Italia, ma già subito post-europeo, ma ancora dopo quando c'erano le qualificazioni mondiali ho detto che per me ci sono delle scelte sia di manovra di gioco che proprio di giocatori per fare quelle manovre di gioco che erano sbagliate era subito dopo il mondiale, all'inizio delle qualificazioni c'era stato proprio un diciamo un assedio su per quanto riguarda Immobile ho spiegato il perché secondo me Immobile non dovrebbe andare in nazionale, perché il suo modo di giocare non collima e non serve alla nazionale di Mancini perché nullo sfrutta del modo migliore, quindi non capisco il senso di convocarlo, dicevo a quel tempo ma soprattutto io avevo già da dopo gli europei, quindi in europeo vinto per farvi capire ma anche dagli inizi, soprattutto dagli inizi della qualificazione mondiale parlavo di due uomini che secondo me lì in nazionale servono poco o fanno più danni che altro ed erano Berardi e Giorginio lo dissi prima che Giorginio sbagliava addirittura per due volte all'andata e ritorno contro la Svizzera la possibilità di qualificarci grazie a due rigori che ci sono stati concessi e Berardi perché ancora prima che sbagliasse poi anche quel gol a porta vuota sempre durante la qualificazione ma l'abbiamo visto anche ieri sera cioè Giorginio che poi è rimasto fino all'ultimo cioè fino all'ultimo quasi perché poi è stato torto ma comunque ha giocato molta della partita di ieri secondo me meritatamente perché da subito si era reso conto che era un giocatore completamente inutile diciamo stavamo giocando con quasi un uomo in meno e Berardi uguale dall'altra parte veramente non ha fatto nulla di nulla ma no perché era ieri sera in generale lui veramente fa poco e nulla nel suo ruolo vi ho sempre detto che preferivo Politano in quel ruolo ma ci sarebbe da aggiungere che oltre a Politano secondo me sarebbe anche meglio Orsolini e adesso mettetevi da parte questo nome dall'altra parte Spinazzola sicuramente è uno degli uomini sempre migliori che vedo in nazionale spinge 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 ma penso che non possa spingere per 90 e rotti minuti e sarebbe servito ieri poi è entrato Gnonto va bene è un giocatore veloce così è ma io lì cioè un giocatore come Zaccagni ti ripeto non lo vuoi far giocare dall'inizio va bene però magari gli ultimi 20 minuti può essere molto d'aiuto quando Spinazzola più di Gnonto per me Zaccagni ha detto quando Spinazzola cala è il sostituto ideale anche per chi arriva spesso al tiro però ci fu quel famoso caso dove Zaccagni l'abbandonò l'ultima volta che fu convocato alla nazionale per un fastidio muscolare una cosa che non venne apprezzata da Mancini in parte penso neanche creduta problemi suoi problemi suoi perché adesso quando gli è stato chiesto perché tutti hanno notato che la mancanza di Zaccagni era una pecca nelle convocazioni soprattutto di questo Zaccagni il migliore esterno che abbiamo sia per realizzazioni sia proprio per prestazioni e non solo quest'anno è partito dall'anno scorso la cavalcata di Zaccagni tant'è che poi è stato chiamato in nazionale proprio per quello che ha fatto lo scorso anno quest'anno ancora meglio e lui dice no ma non lo convoco ma non c'è nessun motivo di fondo ha detto Mancini non c'è un motivo reale ho preferito fare altre scelte eh bravo ma sicuramente però poi alla fine tu giochi di qua Berardi e Giorginio devi recuperare una partita e non c'hai uno come Zaccagni per quanto ripeto secondo me Nonto ieri sera ha fatto bene scelte due per carità ma ne paga tutta la nazionale le conseguenze sia di quello che metti in campo ripeto Berardi e Giorginio ti hanno fatto perdere un mondiale non ci sei qualificato perché uti quei giocatori secondo me soprattutto non modifichi nulla ieri pure il primo tempo il classico assetto sterile inutile zero palle in avanti quando finalmente si è passati a qualcosa di diverso un po' diverso mettendo anche giocatori più utili alla causa ecco lì che l'Italia ha giocato senza considerare poi il tipo di difesa io non dico che deva giocare Romagnoli casale perché anche se si lamenta che le squadre non ci sono i giocatori italiani poi ci sono una diciamo una delle pochissime difese che reggono anche bene in campionato formata da due italiani e tu preferisci fare Acerbi Toloi scelte due però poi se si perde con l'Inghilterra dopo aver perso già una sfilza di incontri aver pareggiato e perso altri incontri in modo umiliante vuol dire che non hai capito ancora nulla allora vuoi fare il presuntoso continua a fare il presuntoso però poi i risultati sono quelli e poi ti ripeto a me personalmente come per immobile a me non mi convochi i Zaccagni non mi convochi i giocatori a Lazio io sono contento perché poi quando arrivano lì si fanno male sono stanchi ma non li convoca ma fa le tue decisioni per carità non vuoi convocar Solini sono affari tuoi va benissimo non lo vedi questo giocatore io personalmente ragazzi vi dico la Lazio secondo me vi ho fatto tanti nomi durante il campionato questa estate questo inverno così ma ragionandoci veramente bene secondo me un'operazione intelligente alla Orsolini c'è un contratto fino al 2024 quindi diciamo la prossima stagione va all'ultimo anno e poi va in scadenza io penso che la Lazio potrebbe fare un'operazione intelligente dando siccome che il ragazzo non ha tutto questo spazio per giocare e ha i minuti veramente contati io manderei in prestito gratuito senza pretendere niente cancellieri al Bologna prestito gratuito così che cancellieri sicuramente avrà più occasioni sicuramente avrà più un minutaggio e facciamo crescere questo giocatore che ci teniamo noi però lo mandiamo in prestito e nel frattempo nello stesso momento andiamo a prendere secondo me Orsolini da mettere lì a destra un Orsolini che secondo me aiuterebbe molto la Lazio in quel ruolo lo vai a comprare per carità ma credo che sia su intorno agli 8 milioni 8 milioni e mezzo il cartellino ma un giocatore che vale la pena avere in squadra che dà respiro ad altri giocatori un giocatore valido che conosce benissimo la Serie A e che secondo me potrebbe far bene anche in altre competizioni allora andiamo a fare un piccolo miglioramento anche perché Sarri ha dichiarato che lui gli piacerebbe avere una Lazio molto molto italiana quindi già adesso devo dire rispetto ad altre squadre siamo molto italiani e questo anche a me fa piacere devo dire la verità non è che il nome è staniero si può risultare più una cosa è arrivato lo straniero però ci sono giocatori italiani che possono essere funzionali ecco ripeto tra questi sono me Orsolini nella Lazio io lo vedrei benissimo benissimo quindi soprattutto se Mancini non lo vede quindi un altro giocatore che ci terremo in casa senza rischio di vederlo partire per la nazionale cioè io Orsolini nella Lazio mi sembra che un qualche tempo fa penso un paio d'anni fa credo l'avevo già fatto il nome di Orsolini per la Lazio proprio due o tre anni fa non mi ricordo proprio per perché lo rideremo un giocatore funzionale quindi una mossa che io farei veramente consiglierei ovviamente poi la Lazio fa come gli pare Tari tanto Tari in Italia non vede niente non so se Sarri potrebbe avere un'idea del genere però ecco far fare un po' più di esperienza uno o due anni di esperienza a cancellieri fuori la Lazio e il Bologna mi sembra un'ottima piazza per crescere e prendere Orsolini al suo posto e secondo me avremo un ottimo rimpiazzo lì davanti poi ovviamente ci sarebbe secondo me da togliere Basic però onestamente non saprei che giocatore possa esserci farei crescere Bertini vi ricordate Bertini dalla primavera io darei più opportunità il prossimo anno lo farei crescere al centro campo perché è un giocatore che a me piace ci sono altri giocatori interessanti dalla primavera però ecco far crescere un Bertini lì al centro campo dove ti serve prendere un sostituto anche italiano se volete a posto di Basic cambiare cancellieri che non penso sia pronto neanche non sarà neanche pronto il prossimo anno e non avrà tutti questi spazi il prossimo anno con un giocatore più pronto e più funzionale e più forte secondo me che è Orsolini mosse che potrebbero rendere ugualmente italiana la Lazio ma renderla anche più competitiva così da strutturare la famosa essere strutturati magari per giocare almeno due competizioni ecco dico solo questo ragazzi per quanto riguarda la nazionale ripeto un brutta si dice vabbè un 2 a 1 potevamo recuperarla sì ma parliamo se è chiaro il primo tempo potrebbe finire 3 a 0 un errore clamoroso da parte dell'Inghilterra porta vuota quella era un 3 a 0 quindi sarebbe finita forse 3 a 1 ma non so se ci avrebbe tagliato del tutto le gambe comunque una partita che meritavamo di perdere e soprattutto perché secondo me è stata messa in campo l'Italia sbagliata ovvero la stessa Italia che ci ha portata fuori dai mondiali quindi non capisco il senso Mancini cerca di fare dei passi avanti perché altrimenti percorrendo la stessa strada ahimè suppongo che arriveremo alla stessa destinazione brutta destinazione ok ragazzi quindi questo video vado a rispondere a tutti tra Instagram quelli che volevano sapere un po' della nazionale del mio pensiero ma soprattutto quelli che volevano anche sapere un pensiero per quanto mi riguarda sul futuro del Lazio come dovrebbe muoversi queste sono le prime cose secondo me Orsolini a posto di cancellieri sarebbe veramente una cosa buona che a me piacerebbe molto poi gusto mio personale non so cosa voi ne pensate magari nei commenti scrivetemi cosa pensate di di questa mossa e magari fatemi dei nomi per quanto riguarda il centrocampo chi metteresse di italiano a posto di Basic ovviamente ragazzi parametri Lazio non mettiamo nomi tanto per dire ragazzi ci vediamo presto con un prossimo video like adesso e olive dolci a posto di